Dica a me una cosa, se io avessi lasciato mia figlia con un trentottenne in una tendina e questo fosse rimasto incinta, è Dalia, si padre, se ci vuole stare in trasmissione bene, se no, se è fastidito la saluto e buonasera, va bene? E che palle! Se per lei un reato di stupro è una piccolezza, si faccia i fatti suoi.